Pariti in Molise i primi tre pazienti a 20 giorni dal primo caso di contagio in regione arrivano le notizie positive, sale a 65 il numero degli infetti tra ricoverati e in isolamento domiciliare, l'invito a rispettare le regole. La mappa del contagio comune per comune è Campobasso, la città con il numero maggiore di casi, poi Termoli, Pozzilli e Montenero in paese, tanti con un solo positivo di coronavirus. Chiude la fiatta a Termoli, aperta all'Unilever, dopo il decreto di ieri scatta lo stop della produzione dell'FCA, soddisfatti i sindacati, la multinazionale continua a lavorare ed è considerata attività indispensabile. Penafro e Pozzilli, gli appelli dalla zona rossa, parlano i sindaci dei due comuni chiusi, i cittadini devono stare tranquilli, dice Ricci, siamo più protetti dal rischio contagi. La Passarelli interviene sul caso Neuroman. Fausto Russo è il primo guarito della Serie D, il preparatore atletico del Fiuggi ha annunciato sui social che a breve lascerà l'ospedale il racconto della sua storia e l'invito a non fare attività sportiva. Buon pomeriggio a tutti voi e buon inizio di settimana, una settimana che comincia con una notizia positiva che molti aspettavamo, che tutti aspettavamo, ed è quella dei primi guariti di tre, lo ha confermato l'ASREM, come sentiremo tra poco dalla voce del direttore generale Oreste Florenzano. C'è anche un caso positivo in più e c'è la mappa dei contagiati. Ci sono anche poi le questioni che restano aperte per quanto riguarda le aziende, ma procediamo con ordine e diamo come sempre il benvenuto al direttore generale dell'ASREM che è qui collegato con noi. Buongiorno direttore, la vediamo già. Allora, questa notizia che aspettavamo è finalmente arrivata? Sì, finalmente abbiamo i tre casi di pazienti guariti. È una notizia molto importante perché è una notizia che ovviamente ci dà fiducia e deve dare fiducia anche alla popolazione. Questo però non deve far abbassare la guardia relativamente alle raccomandazioni e alle disposizioni che continuano a permanere ed è solo grazie a queste disposizioni che, diciamo, la settimana che è trascorsa ha visto un incremento, sì, dei casi positivi, ma un incremento sotto monitoraggio. Direttore, possiamo chiederle, sappiamo che lei poi si appellerà alla privacy, ma insomma possiamo chiederle se questi tre pazienti guariti appartengono, diciamo così, al primo blocco delle persone che sono state ricoverate oppure se sono guarigioni, diciamo così, più recenti? No, appartengono ai primi blocchi dei pazienti che sono stati ricoverati e possiamo anche dire che sono della provincia di Campobasso. Ok, vabbè, starà a noi poi magari approfondire. Intanto però c'è da registrare un caso positivo in più? Sì, c'è un caso positivo perché noi abbiamo finito lo screening di 543 tamponi che ci hanno portato a 478 tamponi negativi e 65 appunto positivi. C'è questo fronte dei, chiamiamolo fronte, insomma ci sono alcuni casi, meglio essere più precisi, ci sono alcuni casi di medici che hanno contratto l'infezione, sono medici di base piuttosto che qualcuno del 118. Sono comunque i casi che preoccupano di più perché sono le persone che sono state più a contatto con i cittadini. Tra poco noi vedremo anche una mappa, una prima mappa parziale dei casi che sono stati conteggiati comune per comune. Sono queste le situazioni che destano maggiore preoccupazione? Le situazioni di positività destano sempre preoccupazione e lo sforzo notevole che viene compiuto è sempre quello appunto di individuare i contatti diretto. È ovvio che nel caso di un professorista della sanità questo lavoro diventa ancora più complesso e più importante perché bisogna andare appunto a rintracciare gli eventuali contatti. È bene però ricordare che noi dobbiamo monitorare strettamente i contatti diretti, mentre il contatto di contatto, perdonate il gioco di parole, ha una probabilità di incontrare l'infezione molto più ridotta. Questo è il lavoro che noi facciamo quotidianamente, che le persone che lavorano con me fanno quotidianamente ed è un lavoro molto gravoso. È un lavoro anche reso complicato perché da una parte c'è la tutela della privacy delle persone che purtroppo in qualche caso è stata, non dall'ASDREM, però insomma c'è stata qualche notizia che è stata diffusa e questo è il motivo per il quale quando io intervengo con voi sono sempre molto asettico su delle telefonate. E quindi questo è il lavoro che ci vede coinvolti e questo è quello che noi stiamo cercando di fare nel migliore dei mobili. In conclusione dottor Florenzano ci salutiamo con il suo ormai consueto appello a non abbassare la guardia, benché siano arrivate le prime notizie positive, è bene insomma restare con occhi. Sì, è proprio questo, proprio in questo momento nel quale cominciamo ad avere qualche notizia positiva, non bisogna abbassare la guardia perché non bisogna farsi prendere da queste notizie positive e riprendere dei comportamenti che non sono corretti. Quindi dobbiamo leggere queste notizie positive come il frutto del sacrificio che tutti quanti hanno fatto, ma non bisogna smettere di fare questo sacrificio, di mantenere le distanze perché solo con questa profonda e precisa applicazione di principio noi limiteremo il contagio. Grazie. Grazie a lei direttore e buon lavoro. Noi invece andiamo avanti con il telegiornale e come vi stavamo dicendo vi facciamo vedere una cartina del Molise che riassume il contagio, la mappa delle persone contagiate comune per comune, l'ha realizzata Enzo Luongo. Era il 2 marzo, 20 giorni fa, il primo caso di coronavirus in Molise. Dopo tre settimane i casi sono diventati 65. Per la prima volta vediamo la loro provenienza comune per comune. Complessivamente sono 19 su 136 i centri molisani dove si sono registrati i casi di contagio. Il maggior numero a Campobasso con 19 persone segue Termoli con 16, poi i 9 casi del Neuromed di Pozzilli, i 6 di Montenero di Bisaccia. Seguono i due casi di Isernia, due a Riccia, due a Boiano, due a Cerce Maggiore. Un solo caso a Monteroduni, Sesto Campano, Guglionesi, Baranello, Filignano, Cerce Maggiore, Rio Nero Sannitico, Campomarino, Castropignano, Ferrazzano e Mirabello. Sono invece otto i molisani contagiati dal virus che sono morti, due anziani a Termoli, tre a Campobasso, una a Monteroduni, poi ci sono i due decessi fuori regione. L'anziano di Sesto Campano allo Spallanzani di Roma, la pediatra residente a Guglionesi, deceduta all'ospedale di Chieti. Parliamo invece della riapertura del 118 a Riccia, che la postazione era stata chiusa per precauzione dopo il contagio del medico che lavorava lì. L'amministrazione comunale ha voluto presiedere alla riapertura e alla benedizione in partita da Don Mario Magagnato, che ha sottolineato il prezioso lavoro svolto dal personale. Andiamo alla Fiat di Termoli, alla Fiat Chrysler, che in osservanza al nuovo decreto Conte ha chiuso i battenti. Sentiamo Manuela Iorio. Finalmente FCA ha deciso di sospendere la produzione per tutti gli impianti, compreso quello di Termoli, a partire da oggi. La comunicazione ufficiale è arrivata nella serata di ieri ed è stata accolta con grande soddisfazione dai sindacati dopo settimane di pressing e dopo che da dieci giorni a livello nazionale era stato indetto lo sciopero generale. La direzione di Termoli non ha ancora comunicato la data di rientro, ma è probabile che sarà il 3 aprile come indicato nel decreto del 22 marzo del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, una data che però con la vicinanza della Pasqua potrebbe slittare ancora. Anche se con ritardo rispetto alle nostre richieste, alla fine FCA ha deciso di chiudere tutto e questa è una buona notizia, ha commentato Francesco Guida della Segreteria Territoriale della Wilm. Un plauso va anche al Governo che, nonostante le pressioni, ha fatto alla fine la scelta giusta, quella di chiudere le attività non necessarie. Ora dobbiamo unire tutti gli sforzi per sconfiggere questa epidemia che minaccia l'umanità. Massima priorità dunque è la salute, mettendo da parte il profitto a dichiarato Guida, che ha fatto sapere che i sindacati ora sono impegnati per far ottenere la cassa integrazione anche alle aziende più piccole. Nella lettera con cui la D, Mike Manley, comunica la sospensione dell'attività in tutti gli stabilimenti dell'Europa e del Nord America, viene rimarcata anche l'intenzione di utilizzare le competenze di FCA per aiutare la comunità, sostenendo la produzione di mascherine e di ventilatori. L'azienda automobilistica è infatti impegnata con Ferrari a Maranello ad aiutare Sia Re Engineering per la produzione di macchinari per la respirazione, mentre uno stabilimento asiatico è stato riconvertito per la produzione di mascherine che saranno donate a soccorritori e operatori sanitari. Un commento sulla chiusura di Fiat arriva anche dal SOA, sindacato per ai auto-organizzati. Abbiamo sempre creduto e sostenuto la chiusura delle fabbriche che non producono beni di prima necessità. Lo sciopero di 15 giorni fa in FCA, i solleciti allo Stato, alla Regione, ai sindaci, al Prefetto sono stati di esempio per tutti a non rinunciare i diritti primari e in primis alla dignità, alla vita di ognuno di noi prima delle produzioni e dei numeri, ha dichiarato Andrea Di Paolo. Ora mandiamo la nostra solidarietà e vicinanza a tutti i lavoratori che per necessità e per sistema devono continuare per il bene collettivo. Restiamo vigili e compatti, non facciamoci sopraffare dalla teoria della paura, restiamo lucidi e forti per andare avanti, ha concluso Di Paolo. Torniamo a Termoli perché il sindaco Francesco Roberti ha fatto il punto con un videomessaggio sulla gestione dell'emergenza aggiornata a oggi. Vediamo, sentiamo le sue parole. 23 marzo possiamo dire oggi di essere un po' più ottimisti perché non vi sono altri segnali o numeri di positività sul nostro territorio, sembra che tutto quello che stiamo mettendo in campo cominci a dare i giusti frutti. Il COC attraverso le associazioni di volontariato, attraverso tutte le parti che compongono questo centro operativo di coordinamento, stia rispondendo alla grande. Continuano a fare e a svolgere le attività che ci siamo detti, da la distribuzione dei farmaci, distribuzione degli alimenti, stiamo provvedendo anche alla distribuzione dei kit su tutto il territorio del Basso Molise insieme e in coordinamento con l'ASREM dei kit per i diabetici. Siamo soddisfatti che la Fiat finalmente abbia chiuso i battenti e che il Governo nazionale si sia reso conto di quale pericolo poteva essere quello di continuare a tenere queste fabbriche aperte. Come provincia abbiamo dato supporto ai comuni di Montenegro e Riccia perché sono comuni zona rossa, quindi ci siamo con il settore viabilità attivati per andare a bloccare le strade provinciali che oggi sappiamo che in queste zone rosse c'è il controllo per l'uscita e per l'ingresso a queste zone, quindi come provincia abbiamo dato questo supporto. Per quanto riguarda una segnalazione di allerta meteo che in questi giorni il nostro territorio sarà interessato da freddo e forte raffiche di vento, per cui cerchiamo di chi può stare a casa e di starsene a casa, a differenza di chi necessariamente come noi dovrà continuare ad operare per il bene della collettività. Quindi aiutateci anche su questo, continuate a mantenere questo senso civico e questo comportamento disciplinato perché così possiamo dire che è l'unico modo per poter tornare presto a condurre una vita tranquilla e serena. Andiamo adesso in provincia di Sernia. Intanto la polizia ha denunciato 30 persone che avevano violato le disposizioni per contenere l'emergenza. Sono tutte persone sorprese in strada senza alcuna giustificazione. Dal 16 al 22 marzo gli uomini della questura di Sernia hanno controllato 600 persone, 150 locali. Nelle ultime ore i controlli naturalmente si stanno concentrando su quelle che sono state dichiarate le zone rosse, cioè Pozzilli e Venafro. E proprio a Venafro il sindaco Ricci è intervenuto dicendo che la zona rossa è stata istituita per contenere il virus e evitare i rischi di contagio ha invitato i cittadini alla calma. Lo ha intervistato Sergio Di Vincenzo. La zona rossa crea inevitabili disagi e preoccupazioni ma non deve spaventarci, serve a proteggerci, a ridurre il rischio di contagio. Ora più che mai bisogna stare tranquilli e uniti, solo così possiamo farcela. Questo in estrema sintesi il senso di un video messaggio pubblicato su Facebook dal sindaco di Venafro, nonché presidente della provincia di Sernia, Alfredo Ricci, per rispondere alle tante persone che si sono rivolte a lui per chiedere chiarimenti ed esprimere preoccupazione per le misure adottate dalla regione. Anche in questo momento vi dico stiamo tranquilli. Non è un mistero che fin da quando è stato accertato il primo paziente neuromed positivo al covid-19, la proposta che ho portato avanti in ogni sede è sempre stata quella di chiudere neuromed, effettuare controlli sulla struttura, sui pazienti, sul personale, sanificare e quando fosse stato tranquillo e possibile riaprire meglio di prima. Allo stesso modo non è un mistero che io abbia chiesto e chiederò ancora di più quando sarà finita questa parentesi, di approfondire quali siano state le precauzioni che neuromed ha adottato per limitare nelle scorse settimane gli accessi alla struttura e alle prestazioni sanitarie. ASREM, la tanto vituperata sanità pubblica regionale, ha messo in piedi un piano di prevenzione che finora si è rivelato efficientissimo e io me ne compiaccio come cittadino molisano. Confido che anche altri abbiano fatto la stessa cosa. Tutto questo ve lo dico perché è giusto che voi sappiate che fin dal primo momento, fin da quando esplosa questa tensione determinata dai contagi accertati presso il neuromed, la vostra voce tramite me è stata presente in tutte le sedi istituzionali con correttezza ma anche con fermezza e con determinazione quando è stato necessario alzando i toni. L'ho fatto pensando ai lavoratori neuromed, alle loro famiglie, ai loro diritti. L'ho fatto pensando a tutti voi cittadini, l'ho fatto per il nostro territorio. Ogni azione posta in essere, ogni interlocuzione, ogni proposta è stata portata avanti come sindaco di Venafro e come presidente della provincia, in stretto contatto con tutti i sindaci della provincia di Sernia che insieme con me hanno condiviso le vostre preoccupazioni, se ne sono fatti interpreti e portavoce. Ad ogni modo passerà questo periodo, avremo modo di fare tutti gli approfondimenti e le discussioni necessari, adesso però è il momento di restare uniti. Il provvedimento che dichiara Venafro e Pozzilli zona rossa è una misura contenitiva rispetto al contagio o al rischio di contagio. Questa misura, ha detto ancora il sindaco Ricci, mira a proteggerci. Non a caso anche altri paesi meno esposti rispetto a Venafro hanno chiesto analoghi provvedimenti. Vi è una situazione che è quella che ognuno di noi riesce a intuire rispetto alla vicenda che si è verificata a Neuromed di Pozzilli che richiede una particolare attenzione. In questo senso la chiusura di Venafro probabilmente è anche una misura che ci protegge ulteriormente. Non è un caso che ci siano molti sindaci in queste ore nella nostra regione che si stanno facendo promotori di iniziative di chiusura dei propri comuni. Stanno chiedendo che la regione li chiuda poiché si sentono maggiormente tutelati e tuttavia questo non è possibile poiché soltanto rispetto a una situazione di rischio è possibile adottare i provvedimenti del genere. E in un post su Facebook è intervenuta anche la sindaca di Pozzilli, Stefania Passarelli. In un'intervista a Enzo Di Gaetano ha spiegato la situazione soprattutto intervenendo sul caso Neuromed. Sentiamo cosa ha detto. Buonasera sindaco di Pozzilli, Stefania Passarelli. Siamo in contatto con lei. Allora lei ha pubblicato su Facebook un post che ha fatto un po' rumore, lei ha chiesto che tutti i collaboratori del Neuromed comunicassero a chi di dovere i propri contatti, la propria catena di contatti familiari per evitare problemi. Che cosa voleva dire con questo suo post? Questo è un elenco che Neuromed ha inviato all'ASREM. Praticamente le 85 persone che in qualche modo sono dipendenti di Neuromed e che hanno avuto a che fare con il reparto dove ci sono gli otto pazienti positivi e asintomatici, quindi questo elenco riporta questi 85 nominativi. Dopodiché, a seguito dell'ordinanza del Presidente Toma, queste persone dovevano avvisare i propri familiari di mettere in quarantena i familiari conviventi. Non credo che questo messaggio sia stato recepito bene dalle persone. Per cui ho approfittato e ho messo questo post su Facebook per invitare chi ancora non l'avesse fatto, ma probabilmente l'hanno potuto fare anche tutti, non lo so, ad avvisare i propri familiari ad osservare la quarantena per quanto possibile, perché poi ci sono delle realtà dove la gente deve capire che non può mangiare vicino al marito, non deve dormire in un altro letto, quindi tenere tutte quelle precauzioni che sono una sicurezza per loro e per i loro familiari. Sindaco, ma lei ha l'impressione che qualcuno non l'abbia fatto praticamente? Allora, io sì, ho una certezza, per esempio, di una persona che conosco che mi ha comunicato questa cosa che non aveva comunicato e non aveva percepito bene questa cosa. Però, diciamo, non è successo niente, facciamo ancora in tempo e quindi abbiamo avvisato di questa cosa. Sui gruppi dei sindaci sto leggendo che molti sindaci vorrebbero richiedere a Neuromed che queste persone, che sono comunque operatori sociosanitari, non ritornassero al lavoro oppure che gli venga fatto un tampone. Purtroppo l'ASREM, da quello che ho capito, e così come è disciplinato anche dalla legge, non fa i tamponi se non ci sono sintomi di febbre, sintomi di tosse e quant'altro. Quindi, diciamo, questa cosa è un po' a doppio taglio, perché se non permettiamo agli operatori sociosanitari di ritornare a lavorare significa che negli ospedali Covid, che in tutta Italia oramai sono ospedali Covid, tutti i pazienti malati, i medici, gli infermieri, gli operatori sociosanitari, che cosa fanno? Non assistono più questi pazienti? Grazie sindaco, un'altra domanda, attraverso altri organi di informazione è sembrato che lei avesse criticato un po' la gestione di quanto è successo intorno a questa vicenda, è sembrato così, insomma, ripete questi suoi dubbi, queste sue critiche oppure è stato un fraintendimento? Per quanto riguarda la zona rossa con Silvivenafro non ero d'accordo, ne ho parlato con il Presidente Toma, però non è un problema, la osserviamo e l'accettiamo così come è stata fatta. Per quanto riguarda Neuromet ci vedo proprio una speculazione politica che fa letteralmente schifo, letteralmente schifo in un momento dove c'è una pandemia in tutto il mondo, dove costruiscono gli ospedali, nelle tende, nelle baracche, dovunque si può mettere un posto letto, abbiamo una struttura sanitaria di eccellenza come la Neuromet e facciamo la guerra per far chiudere un istituto di valenza internazionale. Bastava semplicemente spostare gli otto pazienti da Neuromet, da Campobasso, che è il centro Covid e che per legge avrebbe dovuto fare, sanificare tutta la Neuromet, così come è stato fatto a Termoli, così come è stato fatto all'ospedale di Sernia e al pronto soccorso e fa ripartire una struttura dove ci lavorano dentro mille dipendenti, dove tra poco se questa storia non si risolve, qualche problema ci comincerà ad essere. Oltretutto Neuromet aveva messo a disposizione anche la terapia intensiva, aveva messo a disposizione i posti di terapia intensiva, quindi di che cosa parliamo? Io penso che questo è l'unico caso in Italia se non al mondo dove si fa una guerra, una struttura, anziché aiutare questa struttura e metterla in condizioni di operare per il bene di tutta la collettività. Intanto abbiamo visto che alla Fiat Chrysler gli stabilimenti hanno chiuso, mentre l'Unilever continua a lavorare nella zona rossa di Pozzilli, lo ha detto il segretario del sindacato di categoria della Cisa, Antonio Martone, secondo il quale sollecitato lo stop da parte dei sindacati di 15 giorni alla produzione non c'è stato nessun provvedimento poiché l'Unilever è considerata produzione indispensabile in questo momento. Con la chiusura dello stabilimento di Casal Pusterlengo e con la riapertura con tutte le cautele del caso agli operai di Pozzilli erano stati infatti assegnati turni aggiuntivi. A casa, ha concluso Martone, sono rimasti solo i lavoratori con patologie che li espongono maggiormente al rischio di contrarre l'infezione. Entro domani tutto il personale sanitario di Isernia che ha avuto contatti con la donna di Monteroduni, risultata positiva, sarà sottoposta al tampone. Lo ha confermato il responsabile del pronto soccorso del veneziale Lucio Pastore. Intanto il sindaco della città da Polonio risponde alle accuse di non aver chiesto zona rossa per la città nonostante molte persone lavorino proprio al Neuromed. Sentiamo cosa ha risposto da Polonio in questo servizio. Isernia, siamo dietro l'auditorium davanti allo sportello della protezione civile che in collaborazione con il Comune di Isernia ogni giorno aiuta decine e decine di famiglie, di anziani, di ammalati ad acquistare la spesa per gli alimenti e i medicinali. Chiamano il Comune e il Comune è in carica alla protezione civile di fare questo prezioso servizio sociale. Ma non vogliamo parlare di questo oggi con il sindaco da Polonio che è qui con noi. Con lui vogliamo semplicemente parlare della sua replica alle accuse di non aver chiesto la zona rossa per Isernia, di non aver chiesto i tamponi per i medici del veneziale dopo quanto è accaduto vicino Isernia. Sindaco da Polonio? Noi abbiamo fatto tutto. Per quanto riguarda il veneziale io mi sono interessato immediatamente quando la questione è venuta fuori anche perché mi hanno spiegato che un tampone fatto nell'immediatezza può rivelarsi negativo. Quindi deve passare un certo lasso di tempo dall'eventuale contatto sospetto alla esecuzione del tampone per vedere la positività o meno dello stesso. Questo so che se si procederà a brevissi verranno fatti i tamponi a tutti i sanitari e quindi anche questi sanitari che stanno tutti bene sono asintomatici, non hanno nessunissimo problema, sono controllati con la febbre più volte al giorno e non hanno nessun... ho parlato anche con il dottor Pastore, il nostro responsabile del pronto soccorso, il quale mi ha confermato tutta questa indicazione. Ciò nonostante i pantamponi verranno fatti. Intanto il reparto di isolamento provvisorio creato dietro il pronto soccorso di Isernia ha accolto i suoi primi due pazienti trasferiti da Campobasso. Una donna di Riccia e la sua bambina sono stati accolti dal pronto soccorso, messi in isolamento. È stato fatto il tampone a queste due persone, il tampone è risultato negativo, dopodiché la bambina e la mamma si sono trasferite al Santo Bono di Napoli. A Baranello il sindaco Marco Maio ha detto di essere in contatto con l'infermiere contagiato, la famiglia dell'uomo è in isolamento, anche la moglie in attesa di fare il tampone, i figli sono da una settimana isolati, sono più di una ventina le persone a Baranello in quarantena. Maio ha chiuso anche il cimitero, il sindaco di Baranello infine ha ringraziato i ragazzi del gruppo comunale di protezione civile che hanno collaborato a realizzare le tende del pre-triage davanti all'ospedale Cardarelli. E tra le tante emergenze da coronavirus ve ne sono alcune che comportano disagi, soprattutto per le famiglie che hanno persone con disabilità cognitive. Sono disagi spesso sconosciuti o incompresi e non immaginando quanto sia difficile riuscire a gestire coloro che sono invece alle prese con percorsi di vita quotidiana scanditi da abitudini ben precise, venute meno le quali cadono nel baratro del disorientamento, della confusione e dell'angoscia. Abbiamo ascoltato a questo proposito Carlotta Maiorana, rappresentante legale del presidio riabilitativo l'incontro di Campobasso. Ascoltiamo. Salve a tutti, vi parlo in qualità di legale rappresentante del presidio l'incontro, un presidio riabilitativo per disabili. Pur consapevole della grave emergenza sanitaria che sta vivendo il Paese, sono qui perché c'è un'altra emergenza, quella che riguarda i cargivers e i disabili gravi ed è assolutamente urgente che queste situazioni vengano regolate con disposizioni specifiche. Le limitazioni che tutti stanno subendo nel caso di famiglie che hanno disabili gravi al loro interno rappresentano non semplicemente l'interruzione di una routine più o meno consolidata, ma la perdita del principale riferimento identitario per i disabili. La Regione Campania, dal canto suo, ha previsto un'autocertificazione specifica per quanti assistono a disabili gravi in quanto si tratta di soggetti, di cittadini che hanno delle crisi comportamentali di difficile gestione, hanno una condizione di deprivazione relazionale patologica. Questo loro stato patologico deve essere assolutamente contemplato nel momento in cui vengono dettate le norme che devono seguire tutti e che sono a tutela di tutti. È assolutamente importante ribadire che le regole devono seguire tutti, ma non tutti hanno le stesse necessità. Come struttura siamo costantemente in contatto con le famiglie dei nostri pazienti, hanno tutti le stesse gravi difficoltà nella gestione domestica dei loro congiunti. Stiamo valutando, stiamo verificando la possibilità di interventi di teleriabilitazione, anche se siamo consapevoli che alcuni setting terapeutici non sono riproducibili a distanza. Come struttura accreditata siamo a totale disposizione della Regione Molise, della ASREM, anche dei comuni per avviare un dialogo, un'interlocuzione che ci permetta di trovare delle soluzioni condivise per questo problema, per i problemi di questi cittadini, ovviamente nel rispetto delle disposizioni vigenti. Spero che il mio appello venga recepito e ringrazio tutti per l'attenzione. Intanto dalla Protezione Civile e Regionale fanno sapere che nel fine settimana sono stati consegnati all'ASREM due ventilatori polmonari. Arriveranno, come annunciato anche ieri da Borrelli, nelle prossime ore, anche mascherine per sanitari e per chi è impegnato in questa battaglia. E si è conclusa nel migliore dei modi la disavventura per due fratelli di Agnone che erano rimasti bloccati in Nepal per l'emergenza del coronavirus. Sentiamo che cosa è accaduto nel servizio di Enzo Luongo. Finalmente a casa. Sono rientrati in Italia i due fratelli agnonesi rimasti bloccati in Nepal a causa dell'emergenza coronavirus. Per il loro caso si erano mobilitati diplomazia a istituzioni locali e nazionali. Alex e Ivan Sallustio, entrambi chef in Trentino, erano partiti all'inizio di marzo per un viaggio programmato da tempo, due settimane in Nepal. Proprio mentre si trovavano dall'altra parte del mondo, l'Italia e l'Europa sono state travolte dal virus e anche nel paese asiatico sono stati bloccati i voli. Per i due fratelli è così cominciata la disavventura che si è conclusa solo nel fine settimana. Ecco la loro testimonianza al Brennero, non appena arrivati al confine tra Italia e Austria, dopo un viaggio di certo non semplice durante il quale hanno dovuto anche attraversare il confine a piedi. Siamo partiti da Katmandu ieri, abbiamo fatto scala a Doha e siamo arrivati questa mattina a Monaco. A Monaco non c'è stato praticamente nessun controllo sanitario, mentre negli altri paesi c'era, almeno il controllo della febbre è tutto. A Monaco siamo passati lisci e adesso abbiamo preso questo taxi che ha attraversato l'Austria senza problemi, però non potevamo passare il confine, abbiamo potuto attraversare a piedi e finalmente in Italia ragazzi. Alex e Ivan alla fine della loro disavventura, prima di mettersi in quarantena, hanno voluto ringraziare quanti si sono occupati della loro vicenda, favorendo così una svolta positiva. Volevo ringraziare tutte le persone che si sono rese disponibili in questi giorni, a partire da Andrea Greco, da Castaldi. Volevo dare un grazie speciale anche all'Eco dell'Arte Molise, l'Ambasciata di Calcutta e la Farnesina sono tutti fatti sentire alla fine grazie all'articolo che era uscito. Volevo ringraziare tutti per tutti gli altri che ci hanno comunque seguito su Facebook, che ci hanno dato forza e ci hanno incoraggiato. e niente, ce l'abbiamo fatta, adesso si torna a casa, ci metteremo in autocarantena e faremo i nostri 14 giorni praticamente isolati dagli altri. Un invito caloroso invece di restare a casa a proposito del viaggio dei due fratelli di Agnone. Arriva invece da New York e arriva da un personaggio famoso e caro al Molise, ed è Tony Vaccaro, fotografo di fama internazionale, mondiale, originario di Bonefro. Eccolo qui, che si è fatto un autoscatto, un selfie, si dice adesso, dalla sua casa di New York. Ha scritto sul cartello che tiene tra le mani Restate a casa, stare at home per se stesso, per il bene di tutti. Ringraziamo anche, insomma, questo simpatico e così famoso personaggio. Invece parliamo di un appello che lanciano gli infermieri in questi giorni a fornire di mascherine, soprattutto chi lavora a contatto con i malati. Il servizio è di Lino Venditti. Ormai per tutti sono eroi nazionali, riconosciuti tali solo ora, ai tempi del coronavirus. Medici, infermieri e personale sanitario, quotidianamente e con turni massacranti, stanno mettendo in campo tutte le loro forze e risorse per prestare cure a pazienti contagiati dal virus, ma anche a chi è affetto da altre patologie, donne e uomini che ogni giorno, e le cronache lo testimoniano, mettono a rischio la propria salute. Si lavora nelle parti ospedalieri, nelle strutture d'emergenza, ma anche a domicilio, non senza qualche difficoltà, dovuta soprattutto alla carenza di dispositivi di protezione individuale. A testimoniare questa situazione, che comunque non si registra solo in Molise, un infermiere dell'azienda sanitaria regionale. In 15 giorni mi hanno fornito solo due mascherine, ha detto, mi rendo conto che il problema è generale, ma in questa maniera non riusciamo a operare in sicurezza. Quella personale, osserva, ma anche dei pazienti, soprattutto anziani, che comunque presentano patologie serie. Oltretutto, aggiunge, per noi non è possibile rispettare le distanze di sicurezza, in quanto il contatto con il paziente è diretto. E poi, sottolinea, non sappiamo se e chi dei suoi familiari ha avuto contatti con altre persone, se è tornato recentemente da altre regioni, o se è asintomatico, ma positivo, al coronavirus. Cosa che potrebbe riguardare anche noi, sottolinea, proprio in virtù del servizio che svolgiamo ogni giorno. E' una situazione particolare che non abbiamo mai vissuto, conclude, ma torno a ripetere, che servono assolutamente i dispositivi di protezione individuale, altrimenti svolgere la nostra attività risulta veramente difficile. La fonte del benessere resort Centro Messeghe di Sabrina e Mirella Ricci ha acquistato tre ventilatori polmonari dall'azienda incaricata dalla Protezione Civile Nazionale per realizzare le apparecchiature per l'emergenza Covid. I tre ventilatori sono stati donati all'ASREM. Intanto il sindaco di Montaquila, Marciano Ricci, ha rivolto un appello agli imprenditori molisani e chi ha la possibilità economica di collaborare in un momento di così grande difficoltà a rendersi disponibile e utile. Era l'ultima notizia dell'edizione delle 14 del nostro telegiornale, come sempre in questi giorni per intero dedicato all'emergenza sanitaria. E prima di salutarci vi ricordo la notizia con la quale abbiamo aperto questa edizione con i primi tre guariti in Molise. anche se c'è un nuovo caso positivo, abbiamo scelto naturalmente di dare precedenza alla notizia positiva. È tutto per questa edizione, grazie a voi che ci avete seguito e buon pomeriggio. Grazie. 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 Grazie.